Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite In questo video andremo a vedere la challenge che ci richiede di completare le sfide a tempo Mi sto buttando all'interno di parco giochi, voi mi raccomando non eseguite questa challenge in parco giochi Ma nelle tre modalità, quindi singolo duo squad o rissa squadre eventualmente Comunque non mi fa vedere a me la prova a tempo perché sto registrando questo video in anticipo Ho provato anche nella modalità singolo ma niente Vi dico che la prova a tempo si troverà come dice il titolo della challenge a ovest di Borgo Bizzacco Esattamente in questo punto della mappa Quindi qui andremo a trovare la nostra prova a tempo Ci avviciniamo, dovrete spingere quadrato o avvia qualsiasi tasto sia all'interno di Xbox, Playstation, Switch o Mobile E eseguirete la prova a tempo Probabilmente è richiesto l'uso del veicolo Niente di complesso comunque Vi consiglio di tenere per ultima questa tipologia di challenge Perché bisognerà eseguire un percorso quindi sarà abbastanza lungo Un po' complicato se fatto subito Essendo che ci potrebbero essere anche altri player magari avversari ad eseguire questa challenge Quindi se la fate dopo magari all'interno di sta squadre Potrete forse anche trovare il percorso già costruito come è stato in precedenza con altre prove a tempo Ma andiamo a vedere anche l'altra challenge perché sono due challenge a prova a tempo Mi sono reso conto solo ora che vi ho fatto vedere prima il percorso vicino a Borgo Bislacco In realtà prima c'era questo qui a Parco Pacifico È lo stesso perché dobbiamo eseguire o questo vi faccio vedere a Parco Pacifico o quello vicino a Borgo Bislacco Il titolo ci dice di eseguire il percorso vicino nella parte est di Parco Pacifico Noi stiamo esattamente nella parte est e qui ci sarà la nostra prova a tempo Quindi mi raccomando l'attivate e eseguite la prova Credo che bisognerà eseguirla con i veicoli essendo che ci fa lendare sempre vicino a degli overboard Perché ora vedete i quad ma sono in Parco Giochi Quindi se bisogna usare il veicolo lo utilizzate e eseguite questa challenge Questo è il punto di quest'altra della seconda località Spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Condividetelo con tutti i vostri amici almeno anche loro riescono ad attivare a fare questa challenge La maniera più veloce possibile Noi ci vediamo più tardi con altri nuovi video E le belle messe amiche